Obiettivo? Prevenire le rapine in banca. Videosorveglianza, allarmi, vigilanza, sistemi di salvaguardia delle banconote sono solo alcuni degli strumenti da mettere in atto. Sistemi sempre più efficaci ed efficienti per collaborare con le forze dell'ordine e fermare i malviventi. È stato firmato questa mattina in prefettura Como il secondo protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca in provincia di Como. Lo scopo è consentire agli istituti di credito di disporre di linee operative che individuino precisi standard. Almeno sette i dispositivi che si devono avere tra interno e sportelli Bancomat. Tra questi il passaggio per la videosorveglianza dall'analogico al digitale per poter fornire immagini sempre migliori. Ci sono tre mesi di tempo per adeguarsi, presenti questa mattina oltre al prefetto di Como Bruno Corda, ABI, l'Associazione Bancaria Italiana e i rappresentanti del settore bancario. Il documento firmato oggi scaturisce da un protocollo nazionale da parte del Ministero dell'Interno che ne ha generati altri. Nel tempo i primi risultati sono già arrivati con una riduzione netta delle rapine. La provincia di Como, seppur con dati ancora non definitivi, segue il trend nazionale. Pensate che a livello nazionale da che i protocolli sono stati attuati c'è stata una riduzione del 50% delle rapine. A livello nazionale è un fenomeno che qua avviene un po' meno spesso fortunatamente anche per una buona attività di prevenzione attiva da parte delle forze di polizia e poi appunto da parte degli istituti bancari. È un fenomeno quello delle rapine quindi è piuttosto limitato nell'ambito della provincia di Como. Però noi facciamo in modo che si svolgano le attività di prevenzione necessarie per questo scopo. Il protocollo chiarisce il numero minimo di misure che devono essere presenti in ogni agenzia bancaria, sono cinque e vanno dal controllo degli accessi ai sistemi per favorire l'operato delle forze dell'ordine a sistemi per limitare il contante disponibili. Il protocollo aggiornato siglato oggi a Como è il primo ad essere stato sottoscritto in Lombardia, il secondo in Italia dopo Taranto.